Comparso quattro giorni fa nel porto di Loano dopo aver presumibilmente tentato lo spiaggiamento ad Arenzano e nel litorale della Marina Beach, il globicefalo, considerato un cucciolo per le sue dimensioni e battezzato Annibale, è stato purtroppo rinvenuto stamani ormai morto. Un triste epilogo per questo esemplare di cetaceo delfinoide sorvegliato speciale nella speranza che in qualche modo, superato il probabile disorientamento, potesse riprendere il mare aperto e raggiungere il suo branco. Così non è stato. E riportato a terra presso il cantiere amico dove è stata allestita la sala operatoria per l'esame autoptico, il globicefalo ha rivelato la sua vera identità. È una femmina adulta di 9-10 anni, quindi non si tratta di un piccolo e qui va messa in discussione anche tutta la parte di diagnosi. Dobbiamo sicuramente aspettare le nostre indagini diagnostiche che dureranno circa 3-4 settimane e allora lì possiamo esprimere veramente con certezza il motivo della morte del globicefalo. Senz'altro questi animali vivono in gruppi, in gruppi molto grossi, quindi questo animale ha cambiato rotta e bisogna capire come mai si è spostato dal gruppo. Ecco, saranno le indagini che ci daranno poi una risposta. Intervenire su questi animali è sempre qualcosa di abbastanza critico, perché non si possono ingabbiare nelle reti e trascinare, non si possono mettere troppo le mani addosso, quindi in qualche modo bisogna sperare che loro riprendano poi la strada corretta. Si è stata tutta attivata la rete di coordinamento voluta dal Ministero dell'Ambiente, in contatto con l'Università di Padova, con il dottor Mazziariol, ci siamo sentiti e abbiamo valutato un po' tutte le situazioni, tutta la situazione e abbiamo preso tutte le misure che andavano prese in questa situazione. Non c'era niente di visibile in maniera tale da far pensare a una causa precisa in questa fase, ecco. Non c'erano lesioni riconducibili, magari una collisione con atanti, niente di macroscopicamente visibile, quindi soltanto le analisi di laboratorio ci potranno dire qualcosa di più preciso, perché comunque vanno fatte diverse analisi che richiedono certi approfondimenti, per cui insomma bisognerà aspettare un pochettino. Disorientamento assolutamente, però quando si ritrova in un contesto chiuso lui si disorienta, quindi bisogna capire a monte perché si è disorientato, ecco, qual è stata la causa, e se ha una forma di qualsiasi lesione a livello, non so, parlo anche a livello cerebrale, che ha portato poi l'animale a lasciare il gruppo.